Oggi affrontiamo il tema dell'intelligenza artificiale. Buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video di questo canale. Io sono Carlo e oggi come vi ho detto parliamo proprio di queste applicazioni che hanno, voglio dire, invaso un po' il web, ma in qualche modo che ci hanno veramente colpito, ci hanno affascinato, che sfruttano la cosiddetta intelligenza artificiale. ChatGPT ne è uno di questi esempi. E quindi, giusto appunto, proprio questo argomento mi ha incuriosito parecchio in questi giorni, mi sono messo un po' alla ricerca e ho cercato di trovare delle alternative. Ma fondamentalmente non ho cercato delle alternative perché ChatGPT non fosse buono, ma perché era fuori uso. Non so se voi ci avete provato, ma per tantissimo tempo non era possibile raggiungerlo. Perché? Perché se ne è parlato talmente tanto e ChatGPT non era raggiungibile. Troppi accessi. E allora il web si è mosso. Però ragazzi, ChatGPT non è l'unica realtà di questo tipo, ma andiamo per gradi e andiamo a analizzare un po' quello che attualmente offre il mercato ad oggi. Allora, facendo un po' di cronistoria, mi sono fermato proprio su questo argomento qui, quindi su Google. In realtà anche questo un po' è una ricerca, perché se io cerco qualcosa qui nella barra di ricerca di Google, lui mi dà dei risultati. Mi dà dei risultati con una certa intelligenza. Quindi mi dà dei risultati che attualmente magari sono più in voga, quelli visti di più. Insomma, in qualche modo lui interagisce su quello che io gli ho scritto su questa barra. Ma ovviamente queste realtà, chiamiamole artificiali in qualche modo, sono andate un po' oltre. Cioè, vale a dire, possono anche affrontare delle conversazioni. Ma possono fare tantissime cose in realtà. Devo dire tantissime cose. Adesso cominciamo subito a capire di cosa stiamo parlando. Io non so se alcuni di voi conoscono il mondo e le cose di cui sto parlando, ma adesso, se non le conoscete, le vedete adesso. Allora, questo ragazzi è ChatGPT di OpenAI, quindi chat.openai.com, ma non vi preoccupate dei link, come al solito vi lascio tutto in descrizione. Perché ne hanno parlato così tante? Perché effettivamente le cose che questo strumentino fa sono davvero affascinanti. Sono veramente affascinanti. Andiamo a fare un esempio. Non lo so, per esempio, gli possiamo dirti, questa è in inglese, gli posso dirti, ciao, per esempio, parli italiano. Proviamo a dirgli intanto questo, no? Vediamo, vediamo che ci risponde. Si parlo italiano. Come ti posso aiutare? Non lo so, che gli vogliamo chiedere? Vabbè, andiamogli a chiedere, per esempio, vediamo il significato del nome Carlo. Non lo so, è una prima cosa che mi è venuta in mente, ragazzi. Eccolo qua, il significato del nome Carlo. Vediamo che cosa lui mi genera. Tenete presente che alcune volte le risposte non sono velocissime, in quanto dipende quanta gente insiste su queste applicazioni. Quindi, se magari riesce a essere libero, le risposte sono veloci. Infatti, avete visto, sì, parlo italiano. Come posso aiutarti? È stato velocissimo a rispondermi. Adesso, ecco, lì ha elaborato e mi dice il nome Carlo è di origine germanica e significa uomo libero o uomo forte. Ma questo è una cosa carina. È una variante del nome Charles che è stato molto popolare in Europa nel corso dei secoli. qui. Si ferma qui? No. Forse mi darà anche altre informazioni. Ma, vabbè, diciamo che in realtà vi ho fatto capire un po' il meccanismo, insomma, no? Ancora sta pensando, però volendo gli posso dire anche stop. Ecco, l'ho fermata su questo. Però io potrei continuare e gli posso dire magari quali sono, boh, che ne so, è così, i re di nome Carlo, per esempio. Ecco, gli potrei dire quali sono i re, magari di nome, stacchiamolo, di nome Carlo, tanto per continuare questa conversazione, no? Allora, ci sono molti re di nome Carlo nella storia. Alcuni dei più famosi includono Carlo Magno, Carlo II, Carlo III, lo mando avanti ancora un filino e poi lo blocco, ragazzi, perché di Carlo ce ne saranno una tonnellata. Gli dico stop e lui si ferma qui. Quindi, come vedete, qui ho fatto una conversazione. Però gli posso anche dire, ora, continuando, gli posso dire parlami di Carlo Magno, va bene? Parlami di Carlo Magno. A quel punto lui comincia a farmi un riassunto di Carlo Magno. Vedete bene che questo strumento, anche per ricerche, per lavorare, è veramente carino, perché lui qua non si ferma più. O meglio, arriva a un certo punto dove si ferma. Adesso lo fermo, ragazzi, l'ho fermato io, perché se no andiamo avanti. Però, vedete bene, anche le costruzioni delle frasi sono fatte bene. Magari, ecco, uno può copiare tutto quello che ha scritto, se lo porta magari all'interno di un Word e magari modifica alcuni punti. Magari può inserire delle altre informazioni, ma comunque sia, lui ti dà una base pronta di una ricerca già fatta. Quindi, magari, se io ho necessità, immaginate, di fare una ricerca di qualcosa, posso fargli diverse domande e tutte queste domande poi le posso inserire in una mega ricerca un pochino più grande e ben strutturata, dove posso partire dal nome Carlo, arrivare a tutti i vari re e addirittura uno a uno poter andare a incrementare questo. Quindi, capite bene che questo strumento è davvero eccezionale. Ma non posso parlargli solo di storia, posso dirgli, che ne so, farmi fare delle ricette, ma addirittura, addirittura, io l'ho visto da un mio collega, dei pezzi di codice. Quindi, lui li ha inserito. Adesso è inutile che faccio un test, perché magari non so quanti potranno capire se è scritto bene o male, però vi posso garantire che lui gli ha messo un pezzo di codice e gli ha chiesto come espanderlo e lui gli ha fatto tutto un'analisi e gli ha dato delle soluzioni, devo dire, fatte veramente bene. Quindi, capite bene che ChatGPT è veramente una grande realtà. Il problema, però, qual è? È che noi sentiamo parlare di ChatGPT come l'unico che fa questo. Però, tenete presente, vedete, io qui ne ho aperti altri, perché se andiamo a fare delle ricerche, noi andiamo a trovare, magari, delle realtà che sono molto similari a ChatGPT. Tante volte mi impiccio con questa parola e devo dire la verità, alcune sono anche più performanti. Allora, di alcune che ho potuto leggere, non testare, ragazzi, non le ho testate tutte, perché se non divento matto. Allora, per esempio, Research, eccola qui. Allora, Research è ottima e, tra l'altro, tenete presente che questo è un progetto, devo dire che ancora è in essere, perché tante cose vanno ancora, ancora sono da sviluppare. Però, perlomeno per quello che ho letto, è molto, molto interessante e questo è Research. Un altro, interessantissimo, è Bloom. Eccolo qui. Lui parla a 59 linguaggi. È un open source, Bloom. Quindi, tenete presente anche questo. È veramente un'intelligenza artificiale che fa tantissime cose. e voi mi direte, ma questa è migliore di ChatGPT? Sì, perché è migliore? Perché io posso, tenete presente, che ChatGPT è una realtà chiusa. Io, Jaco Bloom, mi può generare codice, lo posso controllare da un terminale Linux e fornire, per esempio, delle risposte personalizzate e contestuali alle domande dei miei utenti. Insomma, è in grado di produrre testi, se non mi ricordo male, in 46 lingue. Non so dove l'avevo letto, ma, insomma, parla 13 linguaggi di programmazioni. Cioè, ragazzi, è veramente, veramente una macchina da guerra. Cioè, veramente, è fatto veramente bene. Se vogliamo andare avanti e vedere qualche altra cosa, possiamo passare anche a Replica. Comunque, vi lascio, ragazzi, i link in descrizione, così magari ve li andate a vedere anche voi. Benissimo, Replica, per esempio, anch'esso è un'intelligenza che è dotata sempre, diciamo, della chatbox, come abbiamo visto, no? Io posso scrivere e questi ci danno tutte le varie informazioni. Allora, è meglio di chat e GPT pure qui? Allora, con Replica, per esempio, possiamo, in grado di limitare lo stile di scrittura dell'utente, rendendo le conversazioni forse più naturali, possiamo dire più coinvolgenti, non lo so. Però è veramente interessante. Io, ecco, tante prove, ragazzi, le ho fatte, però adesso farle vedere tutte veramente uscirebbe fuori un video che non finisce mai. Io vorrevo parlare un po' di questo mondo, di questa realtà e farvi vedere delle alternative di fondo. E quindi, Replica, devo dirvi, che non è male, è interessante. Come non è male, anche You. You è molto similare, ma molto similare, a chat e GPT. Possiamo dirgli, parli italiano, per esempio, ecco, facciamo italino, italiano, parli italiano. Ecco, ho avviato una chat, lui adesso, eccolo lì, e lui mi dà tutte queste informazioni. Ma questo per quale motivo? Perché le ho scritte nel search. Avete visto? Mi ha trovato tutti questi risultati. Se invece vado in chat e ripeto questa domanda, ok. Allora, io sono Carlo, me lo ha chiesto prima. Ok, io sono Carlo. Questa è una frase tipica. Io sono Carlo, ok. Se io qua gli voglio chiedere, no? Parli italiano? Col punto esclamativo. Vediamo un po'. Sì, parlo italiano. Sono in grado di capire parlare italiano con discreta competenza. Vedete, da qui in poi si innesca un'altra chat. Mi fermo qui, perché altrimenti, veramente, non ne usciamo vivi. Anche qui, potrebbe essere migliore di chat GPT? Allora, io vi dico che, e tante cose le sono andate anche a leggere, perché non solo le prove che ho fatto io, ma mi sono documentato un po'. Per esempio, questo U.com dà delle risposte più accurate alle domande dei vari utenti. E ha una, da quello che praticamente ho letto, da un testo in inglese, ha una tecnologia avanzata di elaborazione del linguaggio naturale. E questa, secondo me, è interessante. Molto interessante, questa cosa qui. Quindi, è veramente uno strumentino fatto veramente bene. Oh, come ultimo, ma non perché sono finiti ragazzi, eh, perché ce ne stanno veramente ancora altrettante se non di più. Vi voglio far vedere Chatsonic. Allora, Chatsonic, a mio giudizio, di tutti quelli che ho provato, devo dire, che è quella che mi ha veramente colpito di più. Mi ha colpito di più per il semplice fatto che ha un motore eccezionale. Allora, tenete presente, prima di entrare a fare qualche piccolo test, che ChatGPT, per esempio, si basa su degli elaborati, cioè non lavora, non lavora in tempo reale. Quindi ChatGPT, cioè se voi state cercando, volete lavorare su testi del 2023, ChatGPT non vi aiuta perché questi valori internamente non ce l'ha. Quindi questo, diciamo, che è una mancanza. Quindi se voi, come ho fatto io, andate a parlare di Carlo Magno o comunque di argomenti, mi pare che lui è fermo al 2021, se non mi ricordo male, correggetemi se ho sbagliato, ma mi sembra che l'algoritmo è fermo al 2021. E quindi tenete presente che se dovete fare cose aggiornate, ChatSonic, come alcune delle altre che vi ho fatto vedere prima, si connettono in tempo reale e vanno a trovare informazioni, elaborano informazioni anche dell'ultima ora. Questa è la parte, diciamo, interessante di questi software. Poi, seconda cosa, ChatGPT non ha interazioni con le immagini, quindi non può generare immagini. E credetemi, il fatto di generare immagini, vi farò vedere in un altro video un altro software che reputo fantastico, ma lo vediamo dopo. Questi software qui generano anche delle immagini. Insomma, queste immagini sono basate sul testo di cui noi stiamo dialogando. Altra cosa importante, per esempio, ChatGPT non ha delle API da rilasciare, quindi in realtà se io sono uno sviluppatore e sto facendo un progetto per cui vorrei inserire questo motore all'interno del mio progetto, ChatGPT è un motore chiuso, non mi permette di fare questo. Allora, mi devo andare a rivolgere, magari come vi ho fatto vedere prima, su Bloom o su altri software o su ChatSonic, perché effettivamente lui ha questo tipo di capacità. Questo è importante. Tra l'altro, bisogna anche dire, che questo vale un po' per tutti però, che quando questi motori sono molto pieni, molto carichi, effettivamente le risposte che ci dà soppicano un po'. Devo dirvi che alcune volte ChatGPT, ma anche gli altri, danno delle risposte che sono un pochino fuori dall'argomento che abbiamo fatto, ma già veramente fanno cose veramente fantastiche. Veramente fantastiche. Comunque, ok, adesso vi faccio vedere ChatSonic. Io gli ripeto sempre la stessa cosa. Parli italiano, per esempio? Sperando che non ci mette una vita. Sì, parli italiano, posso ritarti con qualche domanda che hai sull'italiano, scrivere contenuti di qualità in italiano per te. Basta chiedere. Tra l'altro, WhiteSonic ha veramente dei servizi fantastici. Io sto utilizzando la versione gratuita di questo boot e lui mi permette di fare, vedete qua sotto, fino a 25 richieste al motore, diciamo, all'intelligenza artificiale al giorno, a meno che, ovviamente, non faccio un abbonamento. Allora, a quel punto posso fare quello che voglio. E già questo può essere interessante. Facciamogli la stessa domanda. Mi dici, mi dici il significato, ho scritto bene, significato del nome Carlo. Vediamo, tanto per renderli, per metterli in Carlo, un nome d'origine detesca, che significa uomo forte e uomo libero. Ok, usato. Oggi è uno dei nomi più popolari in Italia del medioevo. Perfetto. E questo mi ha restituito questo testo che ci possiamo stare. Adesso gli dico quali sono i re di nome Carlo. Mi pare che avevo scritto quello, no? Quali sono i re di nome Carlo. E lui qui dovrebbe cominciare a darmi una lista. Penso, non lo so. Adesso andiamo a vedere. Oh, tenete presente che, come vi ho detto prima, Carlo d'Inghilterra. Ecco, forse il chat GPT ce li aveva ordinati in maniera diversa. Vedete? Lui li gestisce in questo, perché a questo punto si integrano queste domande. Quindi devo andare avanti. Carlo diventarei come Carlo III, chi è Carlo III, chi è Carlo I e così via. Allora, io gli posso anche dire, mi dai una foto, vediamo come dice, di Carlo, lui ha detto, vediamo un po', di Carlo III, mi dai una foto di Carlo III, vediamo che cosa fa, e vediamo che cosa fa l'intelligenza artificiale. Io glielo ho scritta anche un po', così. Eccola lì. E questa è una fotografia. Ora, io, francamente, non so se questa foto è la foto giusta, vi dico la verità. Vediamo un po', perché il principale si va a chiamare Carlo III, Carlo I, Carlo II. Allora, facciamo così, diciamo, mi dai una foto di Carlo Magno? Ecco, che forse, magari, vediamo che mi dice, ecco una foto di Carlo Magno, re dei franchi, imperatore, fondatore, ecco una foto, ecco una foto, e la foto? Ecco una foto di Carlo Magno, però non me l'ha data, fondatore di impero carolingio, va bene. Proviamo a dire questo, allora, foto, Carlo Magno, immagine, no, forse facciamo così, più che foto sbagliato, facciamo immagine Carlo Magno. Vediamo se così è meglio. Io lo sto provando per la prima volta con voi, cioè, nel senso che ho fatto determinati test, ma con altre cose. Ah, però le immagini, vedete, sono elaborate. Attenzione, sono tutte immagini elaborate. Vediamo se mi elabora anche questa, la proviamo adesso con voi. Immagine di Marte. Vediamo. Immagine di Marte. Vediamo. Vediamo che mi dà. Immagine di Marte, vediamo che cosa mi va a elaborare. Vedete, queste le posso anche andare a scaricare. E questo potrebbe essere interessante. Immagine di Marte, no. Questa invece sono, no. Queste presumo siano elaborate, secondo me. Queste non sono elaborate, penso che queste siano foto vere. Comunque ragazzi, vi ho fatto vedere un po' come lavorano e come funzionano. Allora, ChatGPT è uno, eccolo qui, lo riporto qui, forse anche la maniera in cui l'ha impostata, devo dire, mi piace di più messa in questo modo, anche come era partito. Però vi posso dire che, per esempio, ChatSonic, in confronto agli altri, è sicuramente, diciamo, più dettagliato e più completo. Ha delle cose in più, ha veramente degli strumenti in più, delle interazioni in più. Io ho fatto anche diverse ricerche sotto questo punto di vista, ma tenete presente che WhiteSonic, davvero, eccolo qui, adesso clicco sul WhiteSonic, vediamo se vi riesco a farvi vedere, forse biblioteca, eccola qui, biblioteca, vedete qua le cose che effettivamente loro hanno. Hanno delle cose veramente di intelligenza artificiale, pazzesca, veramente pazzesca, perché crea degli articoli, eccoli qua, scrive dei paragrafi, editore sonico, no, se no volevo fare riformulazione di contenuti, annunci su Facebook, e titoli degli annunci su Google, guardate ragazzi, veramente quanta, che motore di intelligenza artificiale ha, riformulatore di contenuti, cioè titoli di annunci sponsorizzati, insomma, devo dire che WhiteSonic è davvero molto avanti. E poi ha questo link, come abbiamo visto prima, questo Chatsonic, che abbiamo visto prima, eccolo qui, che vi genera, giusto appunto, si può interagire in questo modo. Bene ragazzi, io vi ho fatto vedere un po' di cose, spero di avervi incuriosito un po' sull'intelligenza artificiale, fatemi sapere nei commenti, che ne pensate, cosa avete provato, perché questa è una cosa, devo dire, nuova. Ah, altra cosa interessante, scusate, l'ho dimenticata, che Chatsonic, come alcuni di questi altri, io posso anche parlare, cosa che in chat GPT non posso fare, mi ero dimenticato di questa cosa, me l'ha ricordato l'icona del microfono, che è fondamentale, quindi posso fare delle domande a Chatsonic e prendere delle risposte, come se facessi una vera conversazione. e questo ragazzi è un grosso valore aggiunto, è veramente un grosso valore aggiunto. Certo, probabilmente non devo avere la limitazione delle 25 domande al giorno, perché per fare questo tipo di lavoro 25 sono un po' poche, però tenete presente che, insomma, è molto interessante fare un po' di test. Comunque, ritornando al punto di prima, ditemi che ne pensate di queste intelligenze artificiali, io vi dico la verità, mi ci diverto, ogni tanto metto lì qualcosa, vedo dove arriva, mi intriga molto la programmazione, perché questi qua scrivono anche righe di codice fatte bene, non voglio dire che prenderanno il lavoro del programmatore, ma secondo me, se andiamo avanti in questo modo, io gli dirò, scrivimi un programma in PHP per fare un archivio documenti e questi magari te lo scrivono. Attenzione, quindi qui arriviamo veramente a qualcosa di eccezionale. Non ci ho ancora mai provato, vi dico la verità, ma sicuramente, poi magari proviamo e ci divertiamo un giorno dopo che ho fatto qualche test su qualche argomento di questo genere, un pochino più tecnico, magari solo per farvi vedere come lavorano e come funzionano. Bene ragazzi, allora questa volta il video davvero finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina, il più grande supporto che mi potete dare e noi ci vediamo al prossimo video.